Buon giovedì 11 giugno, con l'invito a riflettere sulla possibilità di andare oltre il nostro modo di vivere, di cercare di trovare una prospettiva che nell'accoglienza della dimensione dell'amore ci liberi da una forma antropologica della nostra esistenza che è caratterizzato dalla centralità dell'economia, ma di un'economia molto particolare che non è la ridistribuzione equa della scarsità delle risorse, ma che è un'economia dello scarto, che ritiene coloro i quali non ce la fanno siano semplicemente qualcosa da scartare e da sfruttare fino in fondo. A questa economia dello scarto da rifiutare dobbiamo aggiungere un'antropologia dello scarto, un'antropologia naturalmente altrettanto da rifiutare, per riportarci nella dimensione di un'antropologia dello spirito che ci accomuna nelle nostre differenze naturali in una unitarietà che non scarta assolutamente nessuno. Dunque quando incontriamo il povero, quando incontriamo lo sfruttato, accogliamolo come domanda che ci chiede di liberarci dalla tentazione dello scarto e aprire i nostri cuori alla disponibilità di essere inclusivi sia spiritualmente che materialmente un tutt'uno inscindibile. Buona giornata a tutti.